Piemonte e Liguria di una grande opportunità per la nostra città, per il nostro territorio, per Michelin perché Michelin qui in anni di crisi economica generale ha investito decine e decine di milioni di euro ha creduto nello stabilimento di Cuneo, ha creduto nei lavoratori dello stabilimento di Cuneo questo dà prospettiva di lavoro a lungo termine alle 4.000 persone, quindi 4.000 famiglie che vivono e hanno qualità della vita grazie al lavoro che hanno i Michelin da qualità ambientale perché questo stabilimento per com'è organizzato ridurrà le percorrenze interne di 500 km al giorno, quindi qualità ambientale ulteriore cambiando la logistica dello stabilimento toglieremo centinaia di camion, di autotreni al giorno dal centro della frazione di Ronchi e qui si concretizza davvero quello che 5 anni fa poteva sembrare un sogno e oggi diventa una realtà, quindi è una giornata di grande soddisfazione per un lavoro di squadra, di equip che è stato fatto tra Michelin, i cittadini di Cuneo, i cittadini di Ronchi l'amministrazione comunale che ha seguito passo passo rispettando tutti i tempi la realizzazione di questo grande investimento e l'investimento di fondi europei che ci ha consentito di realizzare la bretella che collega questo al MIA che è all'imbocco dell'autostrada. L'ecosostenibilità si fa ogni giorno con i prodotti certamente, studiando prodotti che hanno e quindi per noi pneumatici che hanno per esempio una minore resistenza all'autolamento e quindi un minore consumo e quindi un miglior rispetto all'ambiente ma anche con un impegno costante per esempio all'interno della fabbrica a ridurre ciò che è l'impatto ambientale. Acoustic è un prodotto Michelin che per quanto riguarda l'Europa viene preparato, viene fatto a Cuneo con la collaborazione di Android ed è un prodotto di cui andiamo particolarmente orgogliosi perché è la prima operazione di post-manufacturing che viene installata su Cuneo e che apre prospettive molto interessanti per lo stabilimento. Grazie